Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo di un'intervista a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Il giornalista le chiede dunque se lei non è anti-europeista, conta di essere un punto di riferimento dell'intero centrodestra? Dice non solo dell'intero centrodestra, mi rivolgo a tutti gli italiani, pensi che incontro tantissime persone di sinistra in crisi di identità, mi confessano di sentirsi più rappresentati dal mio partito. Avevano detto che Fratelli d'Italia, solitari all'opposizione, avrebbe visto asciugarsi i propri consensi. Invece non è stata una scelta comoda, dice Giorgia Meloni, ma non credo tuttora che governi con maggioranze così variegate possano produrre qualcosa di buono, se non compromessi al ribasso, come stiamo vedendo ogni giorno. Beh, il giornalista poi gli chiede, ma pensa ancora che sia un governo a trazione di sinistra? Dice la sinistra, dice la Meloni, ha la maggioranza dei seggi in Parlamento e sta tenendo banco, anche con una grande arroganza, vogliono stravincere, ma in che senso? Pretendono di far leva sui voti della Lega e di Forza Italia per perpetuare i disegni del governo Conte. Pensiamo ad esempio al coprifuoco, ce lo siamo tenuti per settimane, addirittura ce lo terremo fino a giugno. Il giorno dopo si sveglieranno e scopriranno che il comparto turistico italiano è distrutto. Questo è mentre, dice il giornalista Enrico Letta e Matteo Salvini, si accusano a vicenda di non essere leali alla maggioranza. Dice è il PD a non essere leale. In un governo di unità nazionale non possono esserci proposte divisive che generano tensioni. Penso a bandierine come il voto ai diciottenni, lo Iussoli, la legge Zan, che andrebbe accantonata subito. Quindi in realtà Letta dice che Salvini non è leale al governo e Salvini risponde e dice no, guarda che realmente sei tu. Però tutto inizia da Enrico Letta che si è dato a questa nuova professione, l'anti Salvini, perché secondo lui questo è il modo giusto per raccimolare più voti. Essere l'anti Salvini, cercare i voti di Forza Italia, i voti dei diciottenni promettendogli 10.000 euro al mese, il voto dei sedicenni chiedendo che anche loro possano votare. Insomma, il giornalista poi dice nel Novero inseriamo anche la rumorosa proposta di Letta sulla tassa di successione per aiutare i giovani. Lei dice Letta è oggettivamente un marziano. Dopo cinque anni alla Sorbona temo abbia perso il contatto con la realtà e lo dico pur avendo un buon rapporto con lui. Ma in che senso è un marziano? È uno che sbarca in Italia con la povertà che dilaga e si mette a parlare di nuove tasse? Vuol dire che non hai i piedi per terra? E lo dico mettendomi nei panni di un elettore di sinistra che magari sta chiudendo un'attività e si ritrova il suo partito di riferimento che vuole alzare le tasse e dare la cittadinanza automatica agli immigrati. ecco diciamo che con le nostre proposte che con le proposte di Letta stavolta sono gli italiani a non stare sereni. Ecco giustamente Giorgia Meloni dice questo mettiamoci nei panni di un elettore di sinistra che sta chiudendo la sua attività e c'è Letta che parla di dare 10 mila euro ai diciottenni. Ecco insomma come può un elettore non diventare un ex elettore del PD e magari guardare a Fratelli d'Italia? Questa è anche la domanda. E poi il giornalista dice ma perché il PD insiste così tanto sui diritti civili e sulla redistribuzione automatica? Ecco dice perché i partiti di sinistra oggi non rappresentano il popolo e le sue esigenze, sono diventati portavoce dei grandi poteri economici e finanziari. In Italia è ancora peggio che altrove perché il PD è diventato anche il partito che a seconda le ingerenze straniere nella nostra nazione e Colletta questo elemento si è addirittura rafforzato tanto che a sentirlo sembra di avere a che fare più con un diplomatico che con il segretario di un partito italiano. Ma Draghi lo stoppa. Dice in questo momento i soldi si danno e non si prendono e Giorgia Meloni dice ha fatto benissimo il premier ma resta il fatto che su molto altro sta secondando quella parte politica più del dovuto. Ad esempio sulle riaperture è stato più chiusurista di Giuseppe Conte. Sull'immigrazione la conferma del ministro Luciano Lamorgese dimostra che non c'è stato nessun cambiamento nelle politiche migratorie e sui sostegni dice avevo chiesto a Draghi di prendere i 5 miliardi della lotteria per gli scontrini, ennesima sciocchezza del governo precedente per aumentare il monte ristori per le aziende in difficoltà. Purtroppo non l'ha fatto e non l'ha fatto chissà anche autorevolezza di Draghi si deve scontrare con la volontà dei partiti in Parlamento per questo l'unico modo per cambiare davvero è andare a votare e ottenere una maggioranza forte con una visione chiara. Il giornalista gli dice ma a proposito di economia Lega e Forza Italia tornano a riproporre le loro ricette economiche. Flat tax, stralcio delle cartelle esattoriali, vi accoderete? Siamo ovviamente d'accordo, sono proposte comuni del centro-destra, poi ciascun partito farà sue proposte specifiche. Prendiamo la notizia della chiusura dei negozi Disney in Italia con 250 posti di lavoro a rischio. Troppo spesso nel mondo oggi aumentano i fatturati ma diminuisce la forza lavoro. Il nostro principio è questo, più assumi meno paghi, più dipendenti hai in rapporto al fatturato meno pagherai al fisco. Se non diciamo e non diamo incentivi alle assunzioni da qui a qualche anno perderemo milioni di posti di lavoro. Anche questa proposta di Giorgia Meloni è interessante. Più dipendenti hai, meno paghi di tasse per loro, in modo che tu puoi assumere più persone e sono più persone che hanno un lavoro, che possono spendere, comprare prodotti e con quei prodotti poi si pagano le tasse. Quindi hai 100 dipendenti paghi 1000 euro a testa di tasse, ne hai 150 e paghi 900, ne hai 200 e paghi 800. Ecco, è interessante anche questa proposta di Giorgia Meloni. E poi lei va avanti in questa intervista e dice altre cose che vediamo se facciamo un altro video su queste altre risposte che fa Giorgia Meloni. Quindi nel prossimo video andremo avanti con l'intervista alla presidente di Fratelli d'Italia. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti. Ricordatevi che nella community ci sono tanti sondaggi a cui poter partecipare e c'è anche poi l'abbonamento al canale per chi volesse, un euro al mese. Si possono vedere più video destinati solo a chi ha questo abbonamento, almeno un video al giorno, quindi 30 video al mese. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.